I giardini nel cuore della rinnovata piazza Garibaldi sono stati dedicati dal comune alle giovani vittime del rapido 904. La cerimonia si è tenuta oggi in occasione del 35esimo anniversario della strage che avvenne il 23 dicembre 1984. Presenti con il sindaco De Magistris, l'assessora alla toponomastica Alessandra Clemente, la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage Rosaria Manzo e di rappresentanti di associazioni, istituzioni e forze dell'ordine. Abbiamo voluto dare questo messaggio forte nella piazza appena riqualificata e consegnata in uno splendore mai visto alla città, un giardino di quella piazza intitolato alle vittime della strage del 904 del 1984. Segnale forte, quindi non solo la ricorrenza che facciamo ogni anno, ma anche questo segnale di memoria e di rinnovato impegno civile e anche di non mollare nella ricerca più profonda della verità. La commemorazione a cui hanno preso parte anche le scuole della città ed una delegazione di studenti di Aosta è proseguita all'interno della stazione con la deposizione di una corona di fiori vicino al binario 11 da cui partì il treno che era diretto a Milano.